Movida violenta a Salerno, coltellata ieri sera in pieno centro, un ventenne residente nelle frazioni alte ricoverato in prognosi riservata a Ruggi d'Aragona dopo essere stato accoltellato dinanzi ad un bar in una traversa tra via Roma e il lungomare Trieste. L'episodio è avvenuto intorno alle 23.30. Subito è stato individuato l'aggressore, un diciottenne incessurato residente anche agli neri onicollinari, che è stato arrestato e rinchiuso a Forni con l'accusa di tentato omicidio. Alla base del gesto, questioni probabilmente sentimentali. L'aggressore infatti era in compagnia dell'ex fidanzata della vittima. I tre hanno iniziato ad insultarsi a vicenda, poi in pre dall'ira il diciottenne ha tirato fuori un coltello ed ha colpito il rivale con tre fendenti alla coscia destra ed uno all'emitorace. In un primo momento la vittima non si è resa conto della gravità delle ferite. Il ventenne si è messo in sella così al suo scooter ed ha raggiunto un gruppo di amici che si trovavano in un bar del quartiere Carmine. Qui ha iniziato a perdere molto sangue a causa di un versamento e i suoi compagni hanno allertato i soccorsi, sollecitando l'intervento di un'ambulanza del servizio di emergenza 118. Il ragazzo è stato così trasferito in ospedale, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Grazie alle testimonianze dei suoi amici, della ragazza e ad un confronto sui contatti Facebook dei due giovani, gli agenti della sezione volante e della squadra mobile della questura sono riusciti a risalire all'aggressore e ad arrestarlo.